ma ma che ma niente è che quello lì quel primate la ieri mentre giocavamo io e mattia con le carte oh ma che so ste cose ancora a giocare io gli ho state allunciate in aria ridendo che marrano ma quindi te la buttate così senza motivo sì ma senza motivo ciao ragazzi cosa vi porto due birre due birre comunque hai mai pensato a poter usare oggetti normali uso comune come armi un ombrello e un fusile a pompa non lo so non ci ho mai pensato tipo una riga che diventa una spada laser oppure che ne so un treppiedi come tipo un triplo fucile lesla un aspirapolvere lancia fiamme che te ne pare grazie no ma tanto queste cose non accadranno mai porco morgo sono più solito può proprio pigliarlo nello stomaco può fargli male non è ammazzarle può fargli male aspetta ma no c'entra in mente quelli che si fanno in volo che gli ho detto amore che gli ho detto ma io voglio soltanto vedere come sto buonasera ehi da chi eh vabbè da chi da chi da chi da chi tipo no la mano la mano la mano eh ho fatto tutto eh la mano la mano avevo da cagare è stata una tortura perché non potevo manco scorreggio a a a a